Perché ridi? Hello! Ben ritrovati o benvenuti sul mio canale, amici. Quello di oggi sarà un episodio monografico, in cui parleremo di una figura quasi dimenticata dell'architettura, di cui probabilmente non avrete mai nemmeno sentito parlare, ma la cui opera è secondo me un viaggio bellissimo tra architettura e visione politica della realtà urbana. Viaggio che tra l'altro faremo attraverso disegni magnifici e incredibilmente futuristici. Oggi parleremo di Lebeus Foods, ma prima di iniziare vi ricordo che qui sotto c'è un pulsantino rosso. Cliccateci su per iscrivervi al mio canale e attivate la campanella così da non perdervi mai nessun video futuro. In più, assicuratevi di seguirmi anche su Instagram e Facebook, dove oltre ad un sacco di foto e contenuti più o meno inutili, settimanalmente vi propongo dei sondaggini che vi permettono di decidere insieme a me i contenuti per i prossimi video. Perciò, orsu, cliccate come matti su quei pulsanti. Grazie. Ebbene, amici, quando si parla della figura di un architetto, tendenzialmente si pensa ad un tecnico, ad un esperto in materia di costruzioni e di progetto, ma anche eventualmente ad un intellettuale, a una persona che si occupa di arte e filosofia. Sicuramente una delle ultime cose a cui si pensa quando si pronuncia la parola architetto è la politica. Nonostante la costruzione e la crescita delle città interessi in primis la sfera sociopolitica, se legata all'architettura viene intesa soprattutto come pianificazione urbana e successivamente magari progettazione di edifici pubblici e privati. L'architetto è nell'immaginario comune fautore di tutto ciò, uno studioso, un tecnico, un supervisore, che progetta e cura la realizzazione di opere strettamente fisiche tangibili. Quello che invece il lungo lavoro di ricerca di Le Beaus Woods vuole insegnarci è che l'architetto è sì tutto questo, ma che riveste anche un ruolo fondamentale nell'organizzazione politica e sociale della città stessa. L'architettura è infatti il luogo fisico in cui si svolge la vita della città, è lo spazio in cui si interagisce, ci si incontra e si mettono in atto tutti quei meccanismi che messi insieme danno vita alla grande macchina sociale. Ogni rapporto tra le persone ha infatti un luogo fisico in cui si svolge, una sorta di scenografia. L'architetto, essendo autore e artefice di questa scenografia, nonché esecutore della stessa, deve necessariamente conoscere la storia e i personaggi che andranno poi ad animare questo spazio. Proprio come uno scenografo deve conoscere i personaggi e la storia del film o dello spettacolo teatrale. Ecco perché l'architetto non è semplicemente un progettista, ma deve essere un attento osservatore della società che, oltre a guardarla con un occhio da studioso, la abita e interagisce in essa e con essa. L'Ebeus Woods, nato negli anni 40 e scomparso purtroppo nel 2012, è stato un architetto e artista americano che ha rivestito un ruolo fondamentale nell'affermazione di questa teoria. Ma credo che il modo migliore per raccontare questo architetto, di cui non si studia mai nulla nelle università e che molti forse nemmeno conoscono, è esplorare i suoi studi e le sue ricerche. Quello che colpisce di più della ricerca di Ebeus Woods è l'uso costante, quasi ossessivo, di due parole struggle e fabric. Probabilmente queste due parole riassumono nella maniera più esaustiva l'intero lavoro di Woods. La parola struggle, intesa come lotta e battaglia interiore, è quella che più spesso compare all'interno dei suoi reportage che egli conduce per diverse riviste come per esempio quella di A più U o A plus U. Si tratta di una parola che già semplicemente dal suono, struggle, denota una passione in coinvolgimento fuori dal comune. Quando Woods si reca a Sarajevo nel 1994, scrive un articolo interessantissimo sulla rinascita di questa città all'indomani della guerra, che ahimè l'ha segnata profondamente. Egli in questa occasione parla più volte di struggle, soprattutto nel momento in cui parla dell'inarrestabile voglia di riscatto degli abitanti di Sarajevo. Ma quello che traspare da quello scritto è che lui stesso è mosso da quello struggimento. Quando una giornalista gli chiede come può di fatto l'architettura risanare e sollevare la popolazione di Sarajevo, devastata dalla guerra, Woods con naturalezza l'espone il suo punto di vista, dicendo che l'architetto può fare molto per ricostruire una città, dove con ricostruire non si intende soltanto dal mero punto di vista materiale, ma anche da quello sociale. Ed è qui che subentra la seconda parola, ovvero fabric. In italiano, tessuto, trama. Woods infatti in quell'occasione spiegherà alla giornalista come su quelle rovine che sembrano aver preso il posto dei fastosi monumenti del passato, la vita degli abitanti scorra ancora. È come questi abitanti popolino quelle rovine, le abitino e facendo scorrere le loro vite all'interno di quegli spazi, vadano quasi a ricucire quel tessuto urbano logorato, strappato dai bombardamenti. È come se gli abitanti fossero la trama e l'architettura lordito di questo tessuto. Woods chiederà alla giornalista di guardarsi intorno, di notare come, dopo tutto, questa gente sia riuscita ad andare avanti, a ripopolare e a ricolorare i luoghi in cui la guerra ha ingrigito le pareti e ha spento le luci. Se un architetto guarda tutto questo con occhio critico, riuscirà a ridare una scenografia perfetta alla vita della città stessa. Scendere in strada, studiare i comportamenti delle persone, i loro movimenti, le loro abitudini, chiedere il loro pensiero, è effettivamente il modo migliore per posare la prima pietra della ricostruzione. Probabilmente il concetto che più si avvicina a quest'idea di Woods è quello della partecipazione decarliana. Come Giancarlo De Carlo, infatti, grande urbanista italiano degli anni Sessanta, per chi non lo conoscesse, Woods è convinto che sia totalmente privo di senso iniziare una costruzione, o in questo caso una ricostruzione, senza prima instaurare un dialogo, una sorta di tavola rotonda, con i futuri utenti e anche con i progettisti locali. Infatti, chi meglio di loro potrà dare indicazioni su quello che effettivamente serve alla città? Saranno proprio loro a determinare la tessitura del fabric della città. E il progettista andrà semplicemente ad orchestrare questo procedimento. Ma facendo così, saprà esattamente qual è il suo obiettivo, prima ancora di posare la matita sul foglio. La stessa partecipazione, poi, in fase successiva, aiuterà il progettista a disegnare e generare il progetto perfetto. Un progetto che sembrerà quasi già vissuto, fin anche quando sarà semplicemente un segno di lapis sul foglio di carta. Il segreto è infatti impugnare la matita e pensare che quello che si sta disegnando è già stato abitato, usato, modificato, adattato, magari anche demolito e ricostruito. È come se su quel foglio ci fossero già tante piccole persone e con la matita il progettista andasse semplicemente a delineare quelli che saranno i muri e a spianare le strade tutto intorno a loro, come se fosse un abito fatto su misura. È da come le persone vivono gli spazi, che è possibile dedurre le loro dinamiche sociali ed è possibile, soprattutto, evitare errori di progettazione. L'esempio più lampante, sempre a Sarajevo, è proprio quello dei grattacieli, ovvero la cosa più inutile che aveva Sarajevo. I piani alti di queste costruzioni sono infatti completamente disabitati e soprattutto destinati a un lento degrado per via di questo vuoto. Questo perché i piani alti non si è pensato che fossero i più vulnerabili ai bombardamenti, agli attacchi a distanza e soprattutto perché da quando è stata sospesa l'erogazione dell'acqua risulta difficile trasportare sugli scalini, centinaia e centinaia di scalini, le riserve, dato che è stata anche interrotta la corrente elettrica. Quindi la domanda sorge spontanea. Sarajevo aveva effettivamente bisogno di queste costruzioni? La risposta è naturalmente no. Sarajevo non ne aveva alcun bisogno, ma il governo sì. Perché effettivamente quei grattacieli non sono altro che dei simboli. Sono stati messi lì per urlare al mondo che la Bosnia c'è, funziona e sta in piedi. Quei palazzoni vogliono simboleggiare l'autorità, il potere resistiti ai bombardamenti. Ma la verità salta comunque all'occhio. Quegli edifici sì, effettivamente rimangono in piedi, ma sono diroccati, quasi mutilati, svuotati. Probabilmente sono il simbolo più iconico di questa guerra, degli involucri apparentemente forti, robusti, imponenti, ma vuoti, senza anima. E oltre che quello, non sono nient'altro. Non fanno parte di nessun tessuto urbano. Anzi, lo segnano. Come se fossero dei nodi nella trama, dei difetti. Quando si chiamano dei grossi progettisti a ricostruire delle città, il rischio maggiore è proprio questo. Ossia che questi ne facciano un monumento a cielo aperto. Ed è un errore legittimo, perché chiunque sarebbe portato a partire dal passato per edificare il presente, affinché poi sia ricordato in futuro. Sarajevo stessa, prima della guerra, era una celebrazione di storia e cultura, templi religiosi, monumenti e grandi palazzi. Ricordavano al mondo che la città era pervasa di tradizioni, che aveva radici lontane e importanti. La guerra arrasò a suolo la maggior parte di questi simboli, riducendoli in rovine. Il compito del progettista è dare a quelle rovine una vita nuova, ma che sia completamente nuova. La gente, devastata dagli orrori della guerra e dalla violenza, non ha bisogno di altri simboli che ricordino loro questo passato, che facciano riaffiorare il ricordo della guerra, di quello che era essere in guerra. Quelle rovine rimarranno effettivamente, probabilmente, delle cicatrici, ma su di esse il tessuto urbano può comunque essere ricucito e uniformato e soprattutto questo può essere fatto con un'accezione più attuale, più utile. La grandezza del passato certo rimane inimitabile, indelebile, ma bisogna andare avanti. Voltare pagina perché l'architettura appartiene solo alla generazione che la vive in quel momento e le deve calzare a pennello. Ma spostiamoci, nel 1993 a Woods viene chiesto di allestire una mostra su Louis Kahn. È proprio in questa occasione che Woods si guarda bene dall'evitare proprio questo errore. Questa volta l'architetto è chiamato non solo a mettere su qualcosa di nuovo, ma deve anche rendere giustizia al passato. Ecco quindi che Woods si mette nella posizione, tale da riuscire a rimanere coerente nella sua teoria, secondo la quale il passato non va assolutamente emulato, perché il rischio maggiore è quello che il risultato poi sembri una grottesca parodia di quello che è stato. Il materiale da esporre nella mostra andrà quindi analizzato metafisicamente, sospeso nel tempo, lasciato quasi in uno spazio etereo, rarefatto. Dovete sapere che Woods era un grande ammiratore di Louis Kahn, lo considerava l'ultimo vero grande architetto senza tempo, ma allo stesso modo era convinto che la generazione che avrebbe usufruito di quella mostra aveva altre necessità. L'architettura contemporanea deve infatti inglobare perfettamente i concetti di libera interazione sociale, cultura popolare e la sua annessa inibizione dovuta alla diffusione dei media. Ed è evidente che la grandezza di Louis Kahn, per quanto non sia svalutabile dalla modernità in tutta la sua sfruttatezza, per carità, non può essere considerata attuale, ne poteva negli anni 90. Va esposta e celebrata, questo è certo, ma tenuta in una sorta di campana di vetro, nell'etere, come un oggetto bellissimo e prezioso, che può essere guardato, ma non toccato o addirittura modificato. Ed è questa la battaglia di Woods, quella che lui perpetuerà per tutta la sua carriera. Egli afferma anche che nelle scuole di architettura, anche le migliori, si insegna agli studenti a fare ricerca, studiare le costruzioni del passato, perché è da quelle che si parte per disegnare il futuro. E secondo lui questa cosa è sbagliata. Lo studio della tipologia, secondo Woods, è una sorta di paradosso. Come può essere studiata una tipologia edilizia? Che si confà ad un tipo, ad un modello di persona che di fatto non esiste più. Si è evoluto. Non è possibile, dice, identificare un tipo architettonico in una società che non è fatta effettivamente di tipi, ma di singoli individui. Le grandi città del passato erano infatti basate sulle grandi distinzioni. Era necessario differenziare l'edificato, le strade per segnare i confini sociali, di rango e di stato economico. Vasti pensare ai centri e alle periferie di un tempo, il loro divario qualitativo dell'architettura. Le case erano grossi scheletri, tendenzialmente tutti uguali, o comunque simili tra loro, rivestiti di pelli sontuose, di facciate decoratissime, e tutto questo era per far apparire all'esterno quello che le case avevano al proprio interno, ovvero ricchezza, o nei casi di degrado, povertà. Ed erano simboli anche quelli. La città era una sorta di patchwork, di diversi piccoli pezzi di tessuto, tutti ricamente decorati e ricamati, oppure poveri consumti, strappati, logorati. Era effettivamente lo specchio della società, ovvero la coesistenza di gruppi molto diversi, di persone uguali. Si può dire che la città, così come viene intesa dagli urbanisti contemporanei, non esistesse affatto. Ha iniziato ad esserci nel momento in cui si è capita l'importanza del tessuto urbano, della complessità di tanti fili, che, seppur diversi tra loro, vanno a creare un unico grande tessuto, uniforme e resistente. Quello che è più o meno la società odierna, dove i gruppi sono grandi, omogenei, ma fatti tutti da persone diverse, e molto diverse tra loro. L'individualità è la chiave per capire la società contemporanea, e di conseguenza, per progettare l'architettura e la città contemporanea. Questa è proprio quella che Woods chiama Anarchitecture, ovvero l'architettura anarchica, il cui emblema per eccellenza sono i cosiddetti free spaces. Questi rappresentano infatti il gesto finale di quella che più che una semplice corrente architettonica, può essere considerata una vera e propria idea politica. Spazi liberi, aperti, senza una particolare destinazione d'uso. Sono luoghi che non appartengono al gruppo, ma alle singole persone. Ognuno infatti ne può fare l'utilizzo che preferisce. E che cos'è il free space? Beh, quello che Woods definisce come free space non è altro che il manifesto della sua propaganda politico-culturale, l'asserimento della sua forte ideologia di partecipazione sociale e affermazione dell'individuo. L'architettura contemporanea deve essere un'architettura eterarchica e non gerarchica, perché la tendenza moderna non è quella di appartenere a un gruppo, ma quella di distinguersi dalla massa. E l'architettura deve raccontare esattamente tutto questo. La matita, nelle mani del progettista, è uno strumento potentissimo e allo stesso tempo molto pericoloso. Se il progettista non sa come usarlo, i danni sul tessuto urbano rischiano di essere evidenti. Il fabric potrebbe squarciarsi di netto e occorrerà che qualcun altro dopo ne studi di nuovo la trama per poterla riprendere e ripararla nel modo meno evidente possibile. Una matita può essere più tagliente di una lama, può generare anche grandi tumulti, che servono poi a migliorare il tessuto urbano. Perché, come ci hanno sempre insegnato, il disegno non è arte, ma uno strumento importantissimo e potentissimo di propaganda e diffusione. I disegni di Lebeus Woods sono lo strumento con cui lui raccontava la sua visione della società e dell'architettura. I suoi skyline improbabili e futuristici, dal sapore quasi steampunk e fantascientifico, erano la trasposizione in immagini della stratificazione urbana in cui lui credeva. La ricostruzione non era mai prevista e l'emulazione nemmeno. Ecco perché sulle città, sugli edifici che noi siamo abituati a vedere e che lui stesso vedeva e rappresentava, lui andava a costruire sopra, con la mente e con la matita, scenari completamente nuovi, forme insolite e mai viste prima. Le sue creature architettoniche sembravano quasi dei guerrieri con l'armatura, dei soldati. La sua architettura possiamo appunto vederla come una sorta di esercito, chiamato a difendere a spada tratta un'ideologia che ha la capacità di rigenerarsi continuamente, rimanendo così sempre attuale e adattabile ai tempi. Probabilmente Woods era un visionario, un sognatore, politicamente anarchico e seguace di un'utopia impossibile, ma nel suo essere metafisico, astratto, era allo stesso tempo uno dei teorici più concreti che potesse resistere. Ha infatti elevato la figura dell'architetto ad un diplomatico, un filantropo, un chiacchierone se vogliamo, ma gli ha messo in mano una matita, dandogli l'unico potere concreto e indiscusso, il potere di creare. Ebbene amici, il nostro incontro con questo visionario, con questo sognatore dell'architettura, ovvero con le Beaus Woods, finisce qui. Spero anche questa volta di avervi fatto conoscere un personaggio di cui non si parla, un personaggio assolutamente fuori dai riflettori, che ha un pensiero diverso, ma che è, secondo me, una parte interessantissima della storia dell'architettura mondiale. Naturalmente ci sarebbe molto altro da dire, ma spero di avervi dato un input e che andiate ad approfondirlo, se vi va, ovviamente. La mia missione sarà sempre quella di portare alla luce dei capitoli dimenticati dell'architettura e di dar loro l'importanza che meritano. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di cliccare sul pollicino in su perché sapere che apprezzate il mio lavoro è un motivo in più per continuare. In più, iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!